ti ricordo di usare alezzi come supporta un creatore nello shop di fortnite grazie per il supporto e buona visione benvenuti in questo mio nuovo video sfida danza vicino a parco pacifico andiamo subito a vedere come completare questa sfida che in verità non ha bisogno di molte spiegazioni innanzitutto bisogna andare vicino a parco pacifico ma non entrare quindi provate andare in queste zone qua e semplicemente potete ballare e completate la sfida comunque questo edificio qua spero che sia piaciuto e mi raccomando iscritti al canale per stare sempre aggiornato sulle ultime notizie di fortnite lascio anche un bel piace per supportarmi commenta e condividi noi ci vediamo in un prossimo video c'è ragazzuoli ciao